complessa effettivamente, ma se dall'altro viene rega sempre più complessa per non farci capire nulla e per levarci responsabilità nelle scene. Ancora, Shasha in questo libro, che naturalmente tratta di mafia, come quasi tutto ciò che ha scritto Shasha in modo implicito e esplicito, in questo libro straordinariamente racconta una storia di cronaca nera mafiosa senza nominare mai la parola mafia. Ebbene, io credo che sia succedendo a noi una cosa del genere, analoga, e per questo ho scelto di leggere da questo libro. Noi stiamo diventando un paese mafioso, ma mafioso al di là delle quattro regioni mafiose, a statuto speciale del mio vendiale che tutti conosciamo, credo, con la loro economia nera, con la loro economia illegittima, illegale, con tutto quello che comporta. Questo è un paese che sta diventando mafioso nei suoi comportamenti.